Crollatetto, tragedia sfiorata, il crollo interessato all'edificio distaccato del liceo scientifico, dove si trovano sei aule, nessun ferito grazie al sottotetto, solo l'aula antelessata dichiarata inagibile, verifiche di vigili del fuoco e amministrazione provinciale. Belvedere, lavori terminati al photo finish, corsa contro il tempo per il termine dei lavori della zona del foglio firme per la partenza della tappa di giovedì del Giro d'Italia. Il cantiere poi dovrà essere riaperto per terminare l'opera. Italia Nostra pronti a denunciare, l'associazione ambientalista si è detta pronta ad organizzare una manifestazione e a presentare denuncia alla magistratura per l'incidente alla discarica di Cava Fornacea. Premiati i vincitori del Romano Cosci, il concorso giunto alla sua seconda edizione è realizzato per valorizzare la figura e l'opera dell'artista Pietrasantino. L'opera da rielaborare era interno di un laboratorio. Ben trovata questa edizione di TG9 Versilia. Tanta paura, ma per fortuna solo quella nel crollo del tetto della zona dell'area distaccata del liceo scientifico Barzanti e Matteucci, dove si trovano sei aule. Ha ceduto un trave portante della copertura, su cui poggiano dei traviciali secondari, che interessano un'aula, in particolare la copertura di un'aula sostanzialmente. Quindi necessita un intervento di ripristino del trave che è venuto giù, che ha ceduto verosimilmente per umidità, infiltrazioni di umido. Pensavamo fosse un tuono, poi ci hanno fatto uscire dall'aula, come facciamo durante le simulazioni di terremoti. È questo quanto raccontato dagli alunni del liceo scientifico Barzanti e Matteucci, degli attimi immediatamente successivi al crollo di parte del tetto della palazzina distaccata dell'istituto, che ospita sei aule. Il cedimento è avvenuto poco dopo l'ora di ricreazione e solo grazie alla struttura interna dell'edificio non si sono registrati feriti. Sul posto per tutta la mattinata si sono succeduti sopralluoghi di vigili del fuoco, commissariato di polizia e amministrazione provinciale, presente con il presidente Menisini, il vicepresidente Conti e il dirigente dell'ufficio edilizia scolastica, l'architetto Fabrizio Mechini. Un crollo totalmente inaspettato, dato che il tetto non presentava segni di infiltrazioni. C'è una struttura che va a consolidare questo controsofitto in maniera importante. Non si vede, nonostante il tetto sia aperto in questo momento, non si vedono segni di umidità, non si vedono segni di infiltrazioni, non si vede niente, quindi probabilmente è proprio a livello un cedimento del legno, della trave, insomma, comunque è tutto da valutare, dobbiamo capire che cosa è successo. L'aula in se stesso non presenta particolari preoccupazioni, però è ovvio che in questo momento con il tetto è aperto, dobbiamo intervenire e urgentemente. Al momento gli studenti della classe interessata dal crollo sono stati sistemati nella palestra della scuola in modo da non interrompere l'attività didattica. Secondo le verifiche effettuate in questo primo sopralluogo, sembrerebbe da escludere l'ipotesi dell'inagibilità dell'intero edificio, in agibilità che dovrebbe interessare soltanto l'aula coinvolta. E adesso ci spostiamo a Torre del Lago perché a 48 ore dalla partenza della tappa del Giro d'Italia c'era timore per il termine dei lavori al Belvedere. Andiamo a vedere com'è la situazione. È stata una lotta contro il tempo e contro il maltempo, quella per riuscire a rendere praticabile il Belvedere di Torre del Lago per la partenza della tappa di giovedì del Giro d'Italia. L'ultima gettata di cemento, infatti, è stata stesa sotto una pioggia battente di un martedì mattina che non lasciava presagire niente di buono per il termine dei lavori, che invece, grazie anche al cielo che si era asserenato, sono potuti proseguire senza ulteriori intoppi. Nel pomeriggio l'amministrazione comunale con l'assessore Rodolfo Salemi e la consigliera Alessandra Malfatti ha effettuato un sopralluogo per verificare l'andamento dei lavori che necessitano adesso soltanto delle rifiniture per la partenza della tappa. Per quanto riguarda la conclusione vera e propria dell'opera, sarà invece necessario riaprire il cantiere per il termine di alcuni interventi alla rete idrica. L'area prospicente al lago di fronte alla strada di Puccini ospiterà dunque il palco per il foglio firma alle 12.45. Da qua i corridori si recheranno in carovana fino al chilometro zero, sull'Aurelia, dove verrà dato il via ufficiale. E intanto la frazione pulciniana si è rivestita di rosa, non solo nelle attività commerciali, ma anche nei giardini delle case, con i residenti che hanno voluto così salutare questo evento storico. Molto storico, molto storico. Un allestimento fatto bene, visto la partenza del giro, che è una cosa da festeggiare. Poi in più abbiamo il centesimo della morte di Puccini, perciò Torre dei Lago è doppiamente in festa. Ci stiamo preparando, abbiamo addobbato tutto di rosa, abbiamo fatto il possibile, sia come attività commerciali che proprio come PIA. Come la vedete questa manifestazione? Ma la vediamo diciamo in rosa, come partenza insomma, però abbiamo cercato di fare il più possibile. Oggi ho visto che sono riusciti a mettere le bandiere del centenario di Puccini, quindi insomma speriamo in una buona partenza e che il sole ci assista. Adesso torniamo sulla vicenda dell'incidente avvenuto a Cava Fornace perché Italia Nosa si è detta pronta ad una manifestazione e anche a denunciare alla magistratura. Continuano le preoccupazioni degli ambientalisti dopo lo sversamento di presunto percolato dall'ex Cava Fornace, un fatto grave che secondo le associazioni non è stato affrontato con la rapidità necessaria perché la discarica non era presidiata da personale operativo. È uscita una grande quantità di acqua e la cosa più importante è che non c'era nessuno a controllare la discarica. La rottura è stata, diciamo così, incostudita per ore, finché poi sono arrivati anche i pompieri, i tecnici stessi. Italia Nostra, Massa e Montignoso, una tra le prime associazioni ad arrivare sul posto dopo l'accaduto, ha parlato fin da subito di un disastro annunciato e ha dichiarato di essere pronta a una denuncia alla magistratura perché l'incidente ha dimostrato che la discarica è incompatibile con l'ambiente e va chiusa. La discarica è una bomba inesplosa, contiene varissimi materiali che non sappiamo ancora esattamente quali, ma c'è anche l'amianto e come noi abbiamo denunciato con l'inchiesta pubblica del 2009, abbiamo detto che l'amianto è uno dei materiali più inquinanti e più pericolosi perché se esce fuori con l'acqua poi si ferma nei canali, nei terreni e col sole può farlo evaporare, può far volare le foglie dell'amianto e creare le malattie, sappiamo, la svestosi. Italia Nostra e le altre realtà associative impegnate nelle tematiche ambientali attendono nelle prossime ore i risultati dell'analisi di Arpat, pronta a scendere in piazza per difendere il territorio. Restiamo in tema di inquinamento ambientale perché a Montramito, a Massarosa, c'è stata la visita del commissario per le bonifiche generale Vadalà per quanto riguarda l'area che è stata interessata dall'inquinamento da Cheu. L'amministrazione comunale di Massarosa ha incontrato il generale Giuseppe Vadalà, commissario straordinario per le bonifiche nazionali, coinvolto dal Ministro all'Ambiente proprio sulla tematica del Cheu che interessa una superficie della zona di Montramito. L'incontro è stato funzionale in quanto il supporto del commissario potrebbe servire per trovare una soluzione alla messa in sicurezza del sito, al centro del procedimento penale relativo agli sversamenti di Cheu. Gli obiettivi del Comune sono innanzitutto la salvaguardia dal punto di vista ambientale della zona, ma anche il suo sviluppo dal punto di vista economico e del territorio, poiché quell'area è oggetto di previsioni urbanistiche che prevedono insediamenti produttivi. L'incontro è servito per aggiornare la task force del generale Vadalà che ha richiesto documentazione, in particolare il piano di caratterizzazione dell'area, il progetto di messa in sicurezza e i pareri di ARPAT, prendendosi una decina di giorni per confrontarsi con Regione e ARPAT appunto e mettere in campo soluzioni rapide e sostenibili. Sono stati circa 300 gli spettatori che al Teatro Guglielmi hanno assistito al convegno spettacolo organizzato dai paladini apoversilesi sul documento storico riguardante il porto di Marina di Carrara. Grande successo per il convegno spettacolo ideato dai paladini apoversilesi è andato in scena al Teatro Guglielmi di Massa davanti a 300 spettatori. L'evento, che ha avuto il patrocinio del Comune di Massa e di Forte dei Marmi, aveva lo scopo di portare all'attenzione del pubblico la questione dell'ampliamento del porto e dell'erosione, partendo da riflessioni ancora attuali trovate nel documento del Conte Lizzoli del 1802 reperito dai paladini nell'archivio di Stato di Massa. Quel documento è stato letto integralmente dagli attori di Arca Azzurra teatro Andrea Costagli, Dimitri Frosali e Massimo Salvianti, che ha curato l'interazione scenica, accompagnati in apertura e in chiusura dall'interpretazione dell'ensamblo di musica antica dei Madrigali di Monteverdi e di Cipriano d'Arore. A chiudere la serata è stato il talk show con i docenti universitari Luca Guzzardi, Giovanni Sarti, Mauro Rosi e Paolo Ricotti, condotto da Orietta Colacicco e scandito dagli stacchi musicali eseguiti dagli studenti del liceo musicale Felice Palma di Massa e dagli allievi del centro studi musicali di Forte dei Marmi. Dall'insabbiamento al fenomeno erosivo fino ad arrivare alle possibili soluzioni come quella del ripascimento o di opere strutturali sono stati tanti temi affrontati e i paladini hanno ribadito il loro impegno costante nella protezione della costa poversiliese. Per chi non lo avesse visto e volesse rivederlo, il convegno in forma di spettacolo andrà in onda su Noi TV Canale 12 il 15 maggio alle 21.30. Cambiamo decisamente argomento e ci spostiamo nel parco della Versiliana che ha ospitato per due giorni la seconda edizione del Tuscany Spirit Festival. Il Tuscany Spirit Festival ha fatto il suo trionfale ritorno alla Versiliana regalando agli appassionati due giorni intensi e coinvolgenti dedicati all'arte e alla scienza della distillazione. Domenica 5 e lunedì 6 maggio il festival ha accolto visitatori provenienti da ogni dove offrendo loro l'opportunità unica di immergersi nel mondo affascinante delle bevande artigianali di alta qualità. L'evento ormai consolidato come la più importante manifestazione toscana nel suo genere ha visto la partecipazione di maestri artigiani, esperti della licoristica che hanno condiviso con il pubblico la loro passione, la loro esperienza e le loro creazioni uniche. C'è stata veramente un'invasione pacifica, dico io, di bellissima gente, giovane, interessati, appassionati e addetti ai lavori. Quindi un grande successo e la Versiliana è uno scenario magico, il Tuscany Spirit Festival porta la Toscana nel mondo e anche la Versilia. C'erano molti stand bellissimi di licoristica toscana, tutti prodotti artigianali, quindi tutti prodotti fatti in una certa maniera, grande qualità dell'evento, secondo me una grandissima qualità, bella gente, come diceva Gianluca che è venuta a vedere l'evento e è venuta a degustare i prodotti, secondo me è stata una bellissima giornata. Con il suo mix irresistibile di tradizione, innovazione e passione, il Tuscany Spirit Festival si conferma come un appuntamento imprescindibile per gli amanti del buon bere e per coloro che desiderano scoprire il meglio della produzione di puristica. Restiamo a Pietrasanta perché sono stati premiati gli studenti vincitori della seconda edizione del concorso dedicato all'artista Romano Cosci. Sono Gaia Pranzo, Giulio Del Carlo e Niccolò Landi rispettivamente per le classi terze, quarte e quinte i vincitori del secondo premio Romano Cosci nella sezione riservata agli studenti del liceo artistico Stagio Stagio di Pietrasanta che quest'anno erano stati chiamati a rielaborare l'opera interno di laboratorio dell'artista versiliese. I ragazzi sono stati premiati nel corso della cerimonia che si è svolta lunedì mattina al Teatro Comunale Cesare Galeotti. La rielaborazione di un'opera d'arte, ha affermato il professor Nicola Salotti, responsabile del Dipartimento Artistico dello Stagi, non è solo un semplice esercizio tecnico ma è soprattutto un viaggio all'interno dell'animo umano. Questa opportunità ha dato modo ai partecipanti di immergersi nell'universo creativo di Romano Cosci, coglierne gli stili, le tecniche e le emozioni e di interpretarli, ognuno attraverso la propria sensibilità espressiva. Un progetto, quello del Premio Cosci, istituito dal Comune per ricordarlo nella sua attività di scultore, pittore e insegnante e che, nonostante sia giunto appena alla sua seconda edizione, sta già iniziando ad ampliare i propri orizzonti. Sul palco si sono poi avvicendati due artisti locali, Giovanni Balderi, scultore ed ex studente del Liceo Pietrasantino e Michele Cosci, il figlio di Romano, che ha fatto da apripista la presentazione dei ragazzi in gara e alla successiva consegna di attestati e premi ai vincitori. Bene, con questo si chiude la pagina dedicata a Via Reggio e la Versilia del TG Noio. Mi fermo qua, grazie per l'attenzione e arrivederci.